Per Club Dante, consiglio di lettura a caldo direi, abbiamo appena presentato questa antologia, si chiama Lavoro Vivo, edita da Allegre, sono dieci racconti sul lavoro di dieci autori italiani contemporanei, Gianfranco Bettin, Ciarallo, Cutrufelli, Angelo Ferracuti, Marcello Fois che sono io, Carlo Luccarelli, Milena Magnani, Gian Piero Rigosi, Stefano Tassinari e Massimo Vaggi. Sono dieci racconti che ricordano a chi l'avesse dimenticato che il lavoro in una società civile non può essere una concessione ma deve rimanere un diritto e mi sembra un elemento semplice ma molto importante come sempre succede nella grande letteratura dove le linee sono orizzontali e dove i concetti sono complessi ma non complicati. È una bellissima esperienza che vi consiglio di fare.